Città Nostra La puntata di quest'oggi ci occuperemo di formazione e volontariato nell'ambito dell'assistenza ai malati oncologici e lo faremo presentando il progetto Sinergia. Andiamo prima però a dare il benvenuto alle ospiti che ci terranno compagnia all'interno di questa nostra puntata. Vado a presentarvi la dottoressa Edi Farnetani, direttore dell'unità operativa di psicologia ospedaliera dell'azienda USL 8 di Arezzo. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito. E diamo il benvenuto anche alla dottoressa Silvia Peruzzi, psicologo e psicoterapeuta presso il Dipartimento Oncologico della USL 8 di Arezzo. Grazie dunque ad entrambe per aver accettato il nostro invito. Secondo quanto riportato nell'indagine i numeri del cancro in Italia, realizzata dall'Associazione Italiana Oncologia Medica e dall'Associazione Italiana Registri Tumori e consultabile all'interno del sito del Ministero della Salute, i nuovi casi di cancro stimati per l'anno 2012 erano 364.000, circa 4.000 in più rispetto ai dati del 2011. Sono tante dunque le persone alle quali viene fatta una diagnosi di patologia oncologica, ma grazie ad una crescente adesione alla campagna di screening e alla maggiore efficacia delle terapie aumentano le guarigioni. È fondamentale comunque adoperarsi per offrire alle persone colpite da malattia oncologica il recupero e il mantenimento della massima autonomia fisica e relazionale. Era doveroso fare questa breve introduzione, ma entriamo nel vivo della puntata rivolgendoci subito alle nostre ospiti. Vado a chiedere alla dottoressa Farnetani che valore ha il ruolo del volontariato nell'ambito dell'assistenza ai malati oncologici. Allora, il volontario fornisce al paziente una rete della comunità curante, la comunità che cura, cioè può mettere a disposizione, proprio perché non è uno specialista, non ha un ruolo ben definito, non è un tecnico nel percorso, può mettere a disposizione del paziente tutto quel progetto di vicinanza solidale, umana, di accompagnamento nel percorso che è impagabile rispetto alle competenze che invece vengono fornite in termini tecnici. Il volontario in questo caso è un volontario poi formato, come diremo anche dopo, che si inserisce nel percorso strutturato assistenziale, quindi non è un volontario che agisce in maniera autonoma, che agisce limitandosi al proprio intervento, ma agisce dentro un progetto di percorso assistenziale. Dottoressa Peruzzi, a livello locale, nello specifico sono tante le associazioni di volontariato che operano in questo settore nell'ambito oncologico. È necessario una loro collaborazione al fine di costruire una rete che permetta di unire le risorse? Sì, direi che è necessario e fondamentale. Infatti la realtà associazionistica in ambito oncologico va dalla prevenzione, infatti abbiamo la Lilt che fa proprio campagne di prevenzione, tra l'altro dal 18 al 23 marzo offriranno delle visite gratuite di prevenzione. Aspetti come la riabilitazione, per cui appunto l'ANDOS, che è l'Associazione Nazionale di Donne Operate al Seno, fornisce un tipo di riabilitazione sia a livello funzionale, proprio con dei corsi di ginnastica, ma anche a livello appunto di sostegno sociale, per cui appunto essendoci delle donne operate al seno, si ritrovano, si riuniscono e possono condividere la loro esperienza. Un tipo di assistenza domiciliare, quindi l'AVAD, volontari a domicilio, è anche il calcito con la raccolta di fondi, per cui è importante fare rete, ma soprattutto appunto per far girare l'informazione, perché se l'informazione circola ovviamente ne ha un beneficio anche il cittadino. Dottoressa Barletani, abbiamo introdotto l'argomento, l'importanza di fare rete, è questo uno degli obiettivi del progetto Sinergia. Lo abbiamo presentato in apertura di puntata, facciamo capire a chi ci guarda da casa di che cosa si tratta. Come nasce il progetto? Allora, il progetto nasce rendendosi conto che più associazioni operavano nella realtà retina a vantaggio e a favore del paziente oncologico. Quindi, essendo noi i sostenitori di una cura centrata sulla persona, la persona è unica, quindi abbiamo sentito la necessità di mettere in rete, di coordinare tutte le associazioni che si occupavano del paziente oncologico. È stato necessario un lungo percorso di incontri, di vicinanza, per, dico io, imparare a conoscersi, a mettere in comunione tra di loro tutte le attività che ogni associazione svolge. Abbiamo scoperto che alcuni di loro non sapevano che esistesse l'altra associazione che faceva delle attività. Quindi, se non altro, abbiamo immediatamente messo in rete le informazioni. Dopodiché abbiamo sentito la necessità di modulare un progetto trasversale. Cioè, chi e che cosa poteva fare il volontario dell'Andos, della Lilt, dell'Avad, con le risorse economiche del Calcit e con le risorse della ASL, in maniera trasversale per il paziente oncologico. E così abbiamo immaginato questo progetto del facilitatore sociale. E nel corso della nostra puntata spiegheremo nel dettaglio che figura è quella del facilitatore sociale. Torniamo ad occuparci del progetto Sinergia. Dottoressa Peruzzi, una delle principali attività previste dal progetto è il corso di formazione. A chi è rivolto e quali sono le finalità? Allora, il corso di formazione è rivolto a tutti i volontari che fanno parte delle varie associazioni che sono poi partner di questo progetto e poi appunto a tutte le persone che hanno voglia comunque di impegnarsi almeno tre ore alla settimana proprio nel volontariato attivo e poi abbiamo dato risalto anche alle persone con malattia, ai loro familiari, proprio perché pensiamo che ci possono appunto dare anche dei feedback rispetto a quali sono i bisogni della persona lungo l'iter assistenziale. Le finalità di questo progetto sono quelle di far sì appunto che questi volontari siano volontari informati rispetto a quelle che sono le risorse del territorio, della realtà ospedaliera e anche informati rispetto a quelle che sono le attività delle varie associazioni di volontariato e poi appunto facilitare la costruzione della rete e soprattutto fare informazione e attivare quello che è il welfare poi di comunità. Dunque, noi proseguiremo a parlare del progetto Sinergia e del corso di formazione previsto dal progetto ma iniziamo a conoscere da vicino i protagonisti di questa iniziativa andando a vedere il primo servizio di quest'oggi ed ascoltando le parole di Avad e Avo. Prego dalla regia. Nasce nel 1996 dall'incontro tra la sensibilità di privati cittadini e alcuni operatori sanitari. Parliamo dell'Avad che offre con il proprio intervento aiuto umano nei confronti del malato e dei suoi familiari attraverso la cultura del servizio a domicilio. Assieme alle numerose realtà retine di volontariato che operano a vario titolo nel campo dell'assistenza oncologica l'Avad sostiene il progetto Sinergia con l'intento di promuovere la figura del facilitatore sociale un volontario in grado di aiutare l'utente tra i vari servizi e fare da ponte tra il territorio e le associazioni. L'idea nasce da qualche cosa che avevamo già nell'area da parecchio tempo ci è capitato l'occasione che il CESBOT ha promosso un progetto e le psicologhe del centro oncologico e dell'ospedale hanno preso al volo questa occasione io non aspettavo altro e quindi abbiamo organizzato, è stata organizzata questa cosa. Ogni associazione può dare qualche cosa all'altro e se non altro l'informazione di quello che viene fatto di quello che si può fare e insieme si può fare di più. Sinergia deve creare delle figure che siano informate di quello che il territorio la nostra città quantomeno dà l'informazione di quello che c'è da poter utilizzare per far star meglio tutte queste persone che hanno bisogno. Tra le realtà che partecipano al progetto anche l'Associazione dei Volontari Ospedalieri Aretini che con una media di 90 presenze mensili offre il proprio servizio all'interno di 10 reparti dell'ospedale San Donato di Arezzo. Se noi riusciamo a fare praticamente rete, sinergia cioè collaborare tutti assieme avremmo non solo un vantaggio per noi delle associazioni perché impariamo cioè seguitiamo a imparare via via uno dall'altro ci aiutiamo e il vantaggio maggiore ce l'avrà l'utente perché essendo tutti assieme possiamo dare anche un servizio migliore. Il volontario è indispensabile come questo che viene ora formato è un volontario indispensabile perché certo il medico, l'infermiere non può dare determinate informazioni cioè diciamo perdere tempo fra virgolette con l'utente ascoltarlo maggiormente di quello che ha bisogno. Tornando in studio mi rivolgo alla dottoressa Farnetani prima nel corso della puntata abbiamo nominato la figura del facilitatore sociale adesso che le linee guida del progetto sono state illustrate spieghiamo ai nostri telespettatori chi è il facilitatore sociale. Nel percorso assistenziale di un paziente oncologico ma anche direi di altre patologie gravi ci sono tanti momenti così complessi e molto difficili da affrontare. Che cosa è successo? Modificandosi anche le caratteristiche delle organizzazioni familiari le persone sono sempre più sole ad affrontare la complessità della malattia e quindi dal momento in cui bisogna andare dal medico al CUP fare tutto un percorso tra ospedale e territorio mentre un po' di tempo fa quando la famiglia forse era più numerosa poteva contare anche sulle risorse degli altri familiari in questo momento occorre che il volontariato metta a disposizione di persone che ne hanno necessità la facilitazione del percorso del processo del percorso assistenziale è un po' complesso ma anche solo nel momento in cui vengono dentro la struttura a fare la cura ci sono tanti momenti di informazione di procedure da fare che hanno necessità di essere accolte il personale sanitario ha difficoltà ad accogliere queste richieste questi bisogni quindi noi abbiamo immaginato che una figura di un volontario che facilitasse proprio facilitasse con la sua informazione il percorso la strada della malattia fosse una risorsa importante poi sperimenteremo questo percorso andremo per tappe vedremo se abbiamo intuito se abbiamo avuto l'intuizione valida ma pensiamo proprio di sì e noi all'interno della trasmissione sentiremo proprio la voce proveniente dal personale sanitario che lei citava vedremo il servizio a breve le chiedo prima un'ulteriore domanda l'abbiamo presentata in apertura di trasmissione come direttore dell'unità operativa di psicologia ospedaliera della USL 8 di Arezzo lei è anche però coordinatrice del progetto le chiedo l'unità ospedaliera di psicologia che ruolo ha avuto all'interno del progetto per la realizzazione e anche le fasi di partenza il compito della psicologia ospedaliera è di assistere il paziente nelle fasi della malattia su tre obiettivi principali primo mobilitare tutte le sue risorse per far fronte a un momento critico di vita secondo mobilitare tutte le risorse della struttura per orientare l'assistenza sulla persona terzo coordinare tutte le energie che ci sono nel contesto assistenziale perché questo abbia il massimo del risultato efficace soprattutto nel collegamento tra l'intervento tecnico in ospedale e il ritorno a casa non il ritorno da un ricovero ma la transizione dal momento tecnico agli interventi poi che la persona deve avere nella società perché il paziente oncologico rischia di isolarsi di rimanere socialmente lontano dai contatti di avere difficoltà in famiglia quindi tutta questa fase che parte integrante del percorso assistenziale la parte tecnica squisitamente tecnica non la può affrontare l'affronta la rete dei servizi coordinata dalla psicologia perché tira fuori l'energia e le risorse umane adesso andiamo ad ascoltare le parole del dottor Pietro Ponticelli direttore del dipartimento oncologico dell'azienda USL8 di Arezzo e le parole del dottor Sergio Bracarda direttore dell'unità operativa di oncologia medica di Arezzo vediamo Dottor Ponticelli la figura del facilitatore sociale che verrà formata all'interno del progetto Sinergia può essere un elemento che ottimizza il percorso assistenziale in ambito oncologico il fatto che si chiami facilitatore è qualcosa anche di nuovo che non esiste attualmente e ha il fatto che si sia sentita questa esigenza vuol dire che ci sono dei passaggi non poi così semplici talvolta ci sono delle cose che vanno spiegate bene al cittadino all'utente per cui può essere un aiuto veramente importante Lei insieme al dottor Bracarda è stato inserito come docente all'interno del corso quali tematiche affronterete con i partecipanti al progetto Sinergia Io personalmente ho già avuto un incontro in cui ho poi illustrato qual è come è organizzato il dipartimento oncologico come è strutturato e quali anche collegamenti funzionali ha soprattutto con tutte le altre realtà della sanità aretina nella gestione di questo tipo di pazienti Il volontario organizzato o il facilitatore hanno sicuramente un ruolo che è meritorio da un punto di vista sociale e sanitario in questo caso il volontario ha una marcia in più perché questo corso di formazione gli consentirà di essere anche di supporto al malato supplendo in parte da alcune carenze che possono verificarsi ad esempio per accompagnare il paziente a fare un esame fargli da guida nei corridoi dell'ospedale ma non tanto per carenze dell'azienda legate anche a tanto di battuta spending in grevio ma semplicemente per avere un ruolo di accompagnatore di cerniera come ho detto anche in altre occasioni tra quello che è il ruolo istituzionale dell'azienda e quello dell'amico nel corso dei propri percorsi ospedalieri anche quotidiani Torniamo in studio dottoressa Peruzzi il volontario formato dal corso sinergia lo abbiamo sentito anche all'interno del servizio possiamo dire che ha una doppia funzione può essere d'aiuto non soltanto agli utenti ma anche agli operatori e ai professionisti che lavorano in ambito sanitario abbiamo appena ascoltato le testimonianze di due dottori secondo lei è così può avere dunque questa doppia valenza questo è il nostro obiettivo nel senso nella nostra mente c'è anche questa quindi una doppia funzione di questo volontario che appunto come abbiamo detto è un volontario formato quindi in qualche modo un volontario anche qualificato la nostra idea appunto è quella che in qualche modo facendo informazione possa comunque alleggerire anche quella che è il lavoro dei medici degli infermieri anche proprio dell'accettazione del dipartimento oncologico e in tutto questo comunque far sentire proprio che ci si prende cura della persona e che in qualche modo c'è una rete di sostegno anche intorno a lei ecco per capire in cosa praticamente il volontario organizzato che viene formato dal corso sinergia può essere d'aiuto anche nei reparti oppure anche presso il centro oncologico andiamo a sentire adesso le parole della dottoressa Paola Belardi coordinatore infermieristico dell'unità operativa di oncologia medica di Arezzo vediamo la figura del facilitatore ci può essere utile sia a noi operatori quindi professionisti sanitari infermieri os ma anche al paziente stesso quindi anche al cittadino che si rivolge al centro oncologico molto spesso carico di dubbi di richieste a cui non sempre è possibile dare una risposta immediata magari la persona può essere inizialmente un po' disorientata e quindi può cercare dei servizi che in realtà sono esterni al nostro ambiente quindi ad esempio cercare la radiologia e pensare di trovarla qui dentro e allora in questo caso il facilitatore ci può aiutare anche accompagnando la persona o comunque dedicandogli un po' di tempo per spiegare esattamente cosa deve fare dove deve andare e abbiamo ascoltato anche le parole della dottoressa Paola Belardi che ci ha aiutato a capire meglio da un punto di vista prettamente pratico quelli che possono essere gli errori più comuni che si presentano dottoressa Farnetani il malato in questo caso parliamo di malati oncologici è però soprattutto un cittadino possiamo dire che il risultato più grande che si cerca di ottenere anche grazie a progetti come Sinergia è quello di tornare ad avere una comunità curante lei prima accennava a questo discorso sì direi che il risultato in parte l'abbiamo già raggiunto perché abbiamo un numero incredibile di volontari che hanno aderito all'iniziativa volontari che per ora fanno il corso di formazione ma che fanno presagire che rimarranno dei volontari attivi perché ora noi parliamo del corso ma poi ci sarà l'attivazione del servizio prevedibilmente a settembre quindi il corso è la seconda tappa di questo progetto abbiamo avuto una prima tappa l'attivazione la creazione di una rete il corso e poi l'entrata in servizio esatto esatto quindi l'attuazione pratica di questo modello che noi puntiamo a formare addirittura potremmo avere il piacere di avere insieme i volontari di sinergia e i ragazzi volontari del servizio civile se il piano nazionale del servizio civile ci finanzierà il progetto allora è evidente che tutte queste persone intanto conoscono la complessità del percorso terapeutico che non è male conoscono la complessità dell'organizzazione azienda ASL che non è male dopodiché vedendo con mano toccando con mano la complessità del percorso e i punti critici del percorso diventano parte integrante del percorso di cura e di cui si fa carico quella che io chiamo una nuova comunità curante perché bisogna far ricorso sempre più alle potenzialità di questa comunità che è ricca che è generosa che è impegnata e che può dare veramente tanto il motto che ci siamo dati è un euro un'ora per la comunità e questo ci sembra un grande risultato per ora una comunità e mi leggo a quello che diceva poco fa la dottoressa Farnetani non costituita soltanto dalle associazioni di volontariato ma anche altri protagonisti del progetto Sinergia provengono dall'ambiente scolastico scopriamo il motivo nel prossimo servizio Presidente Sassoli il Calcit assieme a Lava da Landos e ad altre associazioni a retine che operano nel campo dell'assistenza oncologica ha deciso di promuovere Sinergia un progetto che mira soprattutto alla creazione di una rete tra le differenti realtà di volontariato un modo semplice di trovarsi tra le varie associazioni e poi trovare dei punti d'incontro dove collaborare e appunto il progetto di Facilitatore Sociale è uno dei primi progetti dove più associazioni più di 10-12 collaborano proprio per creare la figura di questa persona che dovrebbe facilitare quelli che sono a volte anche i piccoli inconvenienti che quando siamo in un ospedale capitano dal sapere dove è un reparto dal sapere che tipo di documento può servire ed altre cose avete chiesto aiuto al liceo artistico coreutico Piero della Francesca di Arezzo per la realizzazione di un logo che identificasse e rappresentasse insieme tutte le associazioni che prendono parte a questo progetto abbiamo voluto anche dare a questo progetto una visione più semplice attraverso il logo ovviamente ci siamo rivolti al liceo artistico Piero della Francesca che noi quando andiamo a questa scuola prima di arrivare loro sanno già quello che vogliamo i disegni verranno presentati al mercatino che si farà il coperto il 9-10 di marzo al centro affari di Arezzo c'è una classe che sta lavorando sono già pronti i bozzetti perché la scadenza del mercatino dei primi di marzo è vicina saremo presenti anche al mercatino ma insomma anche in questo caso vogliamo mettere a disposizione la bravura dei nostri ragazzi per la promozione del territorio nel quale noi viviamo voi immaginatevi il ragazzo o la ragazza che sta dipingendo un qualcosa o sta realizzando qualcosa e sa che questo qualcosa finirà in un luogo particolare e avrà una valenza particolare diciamo la realizzazione di quel dipinto sarà per il ragazzo un momento di crescita incredibile e allora gli studenti protagonisti anche all'interno del progetto Sinergia lo abbiamo visto e sentito nella seconda parte del servizio dottoressa Peruzzi non è però la prima collaborazione con gli studenti del liceo artistico coreutico Piero della Francesca andando indietro negli anni nel 2011 una prima collaborazione con il progetto Non Solo Chemio di che cosa si è trattato? esatto allora questo è stato un progetto fortemente voluto dal dottor Ponticelli e anche e soprattutto dal dottor Bracarda questo progetto ha diciamo coinvolto tutte quelle che sono le attività di co-therapies che vengono svolte all'interno del dipartimento oncologico e per co-therapies mi riferisco a tutte quelle terapie che coadiuvano quelle che sono poi le terapie mediche per cui quindi l'associazione Gaia con la pet therapy l'associazione AVO con la tribù dei nasi rossi quindi i clown in corsia e i lettori nonché proprio i volontari che assistono in qualche modo i malati durante le chemioterapie e poi l'istituto d'arte che ha abbellito veramente il dipartimento oncologico questo appunto per creare un ambiente che fosse quanto più possibile meno asettico proprio sempre nell'ottica del passare appunto dal curare al prendersi cura della persona quindi un'attenzione a 360 gradi in apertura di puntata l'abbiamo presentata come psicologa e psicoterapeuta lei però nello specifico è psiconcologa possiamo spiegare a chi ci guarda da casa che figura è quella della psiconcologa e che ruolo ha all'interno dell'ospedale anche per evitare di fare confusione con le altre professioni che citavamo prego esatto sì la psiconcologia quindi io sono psiconcologa è comunque la psicologia rivolta al mondo oncologico perché appunto una diagnosi oncologica va in qualche modo a mettere in disordine quello che è appunto il processo di vita della persona e quindi è un momento di grande crisi nella vita della persona a tutto questo c'è bisogno anche di un riadattamento perché non si può tornare indietro la diagnosi è stata fatta però si può vedere come affrontare questa difficile situazione lei prima citava l'associazione Gaia sì ecco lavorare con gli animali in ambito oncologico quanto conta? ma allora quello che noi abbiamo visto e sono stati fatti anche proprio dei questionari di gradimento che i pazienti veramente sono molto soddisfatti proprio dell'aiuto di questi animali anche perché ci sono proprio delle evidenze scientifiche che dimostrano come ci sia proprio una riduzione dello stress durante la terapia da parte del paziente quindi un elemento anche questo di notevole importanza con lei invece dottoressa Farnetani abbiamo accennato prima al discorso del servizio civile quindi dei giovani una cosa che probabilmente ha sorpreso anche voi organizzatori del corso è stata una buona presenza di giovani che hanno appunto deciso di partecipare a questo percorso formativo è un dato positivo secondo lei? sì in ogni caso sì se non altro come dicevo prima per l'occasione che si danno di conoscere una struttura così complessa ci ha sorpreso molto la partecipazione dei giovani molto perché noi eravamo preparati ad accogliere una popolazione chiamiamola così avanti con l'età pensionati disponibili al volontariato abbiamo avuto invece un numero grande di giovani io mi auguro che questi giovani possano rimanere volontari attivi in fondo chiediamo tre o quattro ore a settimana non di più perché diventeranno appunto i pilastri futuri di una comunità che si prende cura dei propri cittadini in maniera solidale siamo molto contenti e allora abbiamo parlato di giovani abbiamo parlato in precedenza di servizio civile andiamo ad ascoltare cosa ha detto Francesco Biglia ai nostri microfoni nel prossimo servizio Francesco tu sei uno dei giovani che partecipa al progetto sinergia e nello specifico al corso di formazione che si sta svolgendo in questo periodo la tua esperienza parte però dal servizio civile svolto presso la Uslotto di Arezzo è così? esatto io faccio parte di un gruppo di 10 volontari che si occupano dell'attivazione della tessera sanitaria questo è un servizio offerto a tutti i cittadini della regione toscana riguarda diciamo l'implementazione delle varie prestazioni fatte alla Usl all'interno di un fascicolo sanitario elettronico che poi ogni cittadino può portare dietro con sé come mai hai deciso di partecipare al progetto sinergia? beh principalmente diciamo è una continuazione del servizio di volontariato che faccio adesso qui in ospedale in quanto un giorno alla settimana per l'attivazione delle tessere mi trovo anche qua al centro oncologico del Calcit e in questo senso diciamo sono venuto a contatto con il personale con i cittadini che vengono qua a curarsi e i loro familiari e per questo diciamo mi interessava continuare questa esperienza anche dal punto di vista personale cosa ti aspetti dal progetto sinergia e in particolare dal corso? mi aspetto di fare una bella esperienza e di poterla mettere in pratica poi prossimamente lo slogan del progetto è che anche un'ora è importante un'ora del proprio tempo dedicata alle persone abbiamo dunque sentito anche la testimonianza di un giovane ma vorrei soffermarmi anche sulla componente un po' più avanti con l'età che prende parte al corso perché secondo una ricerca del CESBOT una recente ricerca tra l'altro lo abbiamo ricordato in apertura di puntata il CESBOT ha permesso tramite il finanziamento la realizzazione del progetto sinergia ecco secondo una recente ricerca fare volontariato è una delle forme per promuovere l'invecchiamento attivo della persona è così dottoressa Farnetali sì noi immaginavamo con questo corso di formazione di motivare i volontari alla rete alla solidarietà ma anche di stimolare la motivazione personale all'impegno attivo in modo tale che la quotidianità l'impegno l'interesse mantenga attivo le reti neuronali l'attività cognitiva per cui diamo anche nel corso delle piccole pillole per come mantenere in funzione in buona funzione la nostra competenza cognitiva dottoressa Peruzzi come intendete informare la cittadinanza della rete e delle figure che state formando ma intanto le varie associazioni di volontariato comunque stanno facendo informazione capillare rispetto a questo e poi è stata creata anche una pagina facebook sinergia volontari in rete attraverso cui appunto intendiamo pubblicizzare quelle che sono le varie attività che vengono svolte da tutte le associazioni di volontariato ma anche informare di quello che sta succedendo all'interno del corso di formazione un'ultima domanda chiede una risposta telegrafica alla dottoressa Farnetani abbiamo detto che i volontari entreranno in servizio approssimativamente a partire da settembre non saranno però abbandonati ci sarà una supervisione sicuramente ci sarà una supervisione sia nella loro modalità di stare dentro il percorso e poi rinfrescheremo le informazioni non è sufficiente un'informazione data in una lezione quindi saremo sempre presenti in modo da accompagnare questa esperienza anche proprio con step sperimentali i primi quattro mesi poi una verifica poi ancora sperimentare e così via e faremo riferimento appunto all'unità operativa di psicologia per questo tipo di attività siamo giunti alla conclusione di questa nostra puntata prima di salutarvi ricordo che al progetto Sinergia partecipano le sezioni aretine dell'Avad dell'Andos del Calcit del Lavo della Lilt e di Gaia il gruppo di aiuto interdisciplinare con animali e grazie anche all'ausilio e all'aiuto dell'azienda USL8 di Arezzo ringrazio anche le nostre ospiti per averci tenuto compagnia ringrazio la dottoressa Farnetani direttore dell'unità operativa di psicologia ospedaliera dell'azienda USL8 di Arezzo nonché coordinatrice del progetto Sinergia e ringrazio anche la dottoressa Silvia Peruzzi a questo punto possiamo dire psicologa psicoterapeuta ma anche psiconcologa e la ringraziamo infine ricordo a tutti voi amici da casa che per rivedere le puntate di Città Nostra potete visitare la sezione dedicata del sito della nostra emittente all'indirizzo web www.tsdtv.it slash Città Nostra ringrazio dunque tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con Città Nostra di Città Nostra